Ciao a tutti da Mondo Calcistico, oggi parlerò di Alexandro, della sua trasformazione ormai in una difesa a tre. Anche oggi userò una lavagnetta speciale per poter scrivere nelle immagini e per poter creare delle analisi sempre più complete, quindi vedrai questo nello schermo. Ti chiedo subito di iscriverti al canale per avere tantissime altre analisi. Dopo con le immagini vedremo bene i pregi e difetti di Alexandro come difensore centrale esterno di una difesa a tre, quindi non al centro. Però è un qualcosa che era già stato visto da Andrea Pirlo nella sua esperienza alla Juventus, a volte anche da difensore centrale puro in una difesa a quattro. Comunque Pirlo sostanzialmente lo utilizzava da difensore centrale esterno nella difesa a tre, principalmente per il possesso palla e per le preventive. Con Allegri diciamo che è un po' più difensore puro, difensore centrale puro. Una trasformazione che comunque non c'è da quest'anno ma già da qualche anno perché lui ormai non è più quel difensore esterno, quel difensore laterale che ara la fascia, che la fa mille volte, che cerca tantissimi dribbling e tantissimi cross. Già da qualche anno ha abbandonato quello stile che lo aveva contraddistinto soprattutto nei primi anni di Juventus. Principalmente Alexandro fa quello che tanti difensori centrali esterni di una difesa a tre fanno, quindi vanno in avanti, vanno alla ricerca dell'uomo. In questo caso vediamo Alexandro andare su Anghissa, praticamente in linea con i tre centrocampisti, quindi Locatelli, McKennie e Rabiot. Il tutto per andare alla ricerca dell'uomo di un avversario da marcare. In quel caso nella sua zona non c'era nessuno, Rabiot lì era salito, Anghissa era libero, quindi Alexandro va in avanti. Un aspetto che fanno, come ho detto prima, tanti difensori. In passato lo faceva anche Chiellini ad esempio di salire in avanti sull'avversario. Se prendiamo le difese a tre di Gasperini e Juric ci sono mille casi di difensori che salgono in linea con i centrocampisti. Il tutto perché nella propria zona non c'è un avversario da marcare, quindi si può portare un difensore che eventualmente è in più in avanti alla ricerca di un uomo. Alexandro appunto fa questo, va in avanti. E questo lo possiamo vedere ad esempio quando un centrocampista, in questo caso Rabiot, che era sulla sinistra, quindi sulla fascia di Alexandro, andare in pressing, quindi il difensore brasiliano va su Anghissa, abbandonato ovviamente da Rabiot, per poi seguirlo ancora una volta. Quindi per tutto il proseguo dell'azione. In questo caso vediamo Kostic che era su Politano che garantiva ampiezza per il Napoli. Quindi Alexandro si preoccupa principalmente del centrocampista del Napoli che è in quella zona. Non c'è stato solo Anghissa ma anche Zielinski. E questo serviva anche negli anticipi ad esempio, ma anche quando bisognava andare in avanti appunto tutti in pressing, tutta la squadra. E Alexandro era lì su Anghissa. Un aspetto molto importante di una difesa a tre, lo si vedeva tantissimo con Bonucci, Barzagli e Chiellini per rimanere in tema Juventus, è quando i due difensori centrali esterni, quindi in questo caso Alexandro e Danilo, vanno in una preventiva su Ozyman e Kvaraxchelia. E in questo caso c'è il centrale che può coprire. Quindi in questo caso Bremmer, in passato c'era Bonucci che era bravissimo in questo, quindi con Chiellini e Barzagli che avanzavano. E Bremmer qui può appunto coprire. Magari Ozyman va in avanti dribblando Alexandro, magari Kvaraxchelia, magari Politano che viene magari dimenticato qui sulla fascia. Insomma Bremmer lì può garantire copertura e Alexandro può garantire una preventiva su Ozyman, garantendo appunto un difensore in più. E questo è un aspetto molto importante ovviamente per le transizioni difensive, per i contropiedi avversari, perché Alexandro qui va nuovamente in una preventiva su Success, va in un duello aereo vincendolo, però qui dietro di lui ovviamente c'è il difensore centrale di turno, Bremmer, Bonucci, Rugani, dipende da chi, che può coprire. Quindi in questo caso Alexandro può andare diretto sull'uomo per cercare di riprendere la palla e far ripartire l'azione della propria squadra. Questo tipo di gioco è molto molto importante con Kostic sulla fascia, perché vedremo due aspetti molto molto importanti. In questo caso rivediamo l'aspetto di prima, quindi Alexandro che va in preventiva, in una marcatura preventiva su Success, Danilo invece subbetto e Bremmer a coprire. Quindi tre difensori, due attaccanti, ma l'aspetto principale è poter lasciare Kostic in un uno contro uno sulla fascia, perché in caso di Alexandro che va a sovrapporsi come faceva magari in passato, lì si creerebbe più densità. Quindi gli avversari che porterebbero un altro difensore, un altro centrocampista, dipenderà come si schierano ovviamente, da come sono predisposti. Quindi ci serve più densità e più difficoltà per Kostic per crossare. Invece la Juventus, Allegri, sceglie appunto di lasciare Kostic libero sulla fascia con l'uno contro uno, per avere più spazio e appunto per poter crossare. E quindi di sovrapposizioni di Alexandro, che siano esterne, che siano interne, ne vedremo veramente pochissime, ne abbiamo viste pochissime, perché appunto Alexandro si preoccupa o di marcare, quindi di fare una preventiva eventuale, o di stare a sostegno, quindi di stare dietro Kostic per un eventuale retropassaggio. Il tutto per appunto garantire sempre la situazione di uno contro uno con l'avversario. Tutto questo per Kostic ovviamente favorito dal fatto che lui è un mancino, quindi deve andare sul sinistro. In caso di piede invertito, ovviamente una sovrapposizione che sia esterna o interna, farebbe comodo all'attaccante esterno di riferimento, perché comunque potrebbe avere ad esempio l'avversario in difficoltà, in un eventuale cambio di marcatura o di raddoppio. Invece qui con Kostic c'è proprio l'esigenza di lasciarlo uno contro uno. E Alexandro nel frattempo fa quello, o va in sostegno, quindi aspetta un eventuale retropassaggio, o va in una marcatura preventiva. E lo stesso discorso di Kostic vale anche quando la Juve recupera palla e può ripartire. Quindi vediamo Kostic che va direttamente in avanti, non si preoccupa della costruzione dal basso, o del gioco, o del palleggio della propria squadra, ma va subito in avanti e tutto questo viene concesso ad Alexandro, che riceve appunto il pallone da questo calciatore, e Alexandro è libero qui, mentre Kostic può tranquillamente andare in avanti. Tutto questo spazio ovviamente è a disposizione di Alexandro, che si comporta comunque da terzo, quindi può avanzare o comunque passare la palla al centrocampista. E questo ovviamente è un aspetto molto molto importante per Kostic, perché non solo può andare subito in avanti, ricevere anche già un passaggio lungo in avanti, ma c'è anche chi lo copre o chi fa il lavoro sporco in fase di costruzione per lui. E proprio perché Kostic poi deve salire in avanti, può essere più offensivo andando subito in avanti, si può creare una situazione di difesa a quattro, quindi con Alexandro che ritorna praticamente un difensore laterale di una difesa a quattro, vediamo qui quindi i quattro difensori, Danilo, Rugani centrali, Alexandro e McKennie, in quel caso ovviamente adattato dietro per la costruzione del gioco, e Kostic ovviamente più alto, pronto a salire, pronto a ricevere palla già in zone offensive. Quindi ancora una volta un aspetto molto importante per Alexandro, che favorisce sia la copertura per Kostic, ma anche il palleggio della squadra. E tutto questo ovviamente si verifica anche quando in fase difensiva la Juventus difende vicino alla propria area di rigore, perché Kostic magari sale in avanti in pressione, e quindi ritorniamo alla difesa a quattro di prima, con McKennie dietro, Danilo e Rugani centrali, e Alexandro che va sull'attaccante di riferimento, in questo caso Beccao che aveva fatto una bellissima sovrapposizione, e qui vediamo appunto i duelli con Alexandro e Beccao, Rugani che poi si avvicina da success, e Danilo contro Betto. Ci sono state tante voci sul fatto che la Juventus avesse un obbligo nei confronti di Alexandro per un tot di presenze accumulate quest'anno, diciamo che io non ho trovato un qualcosa di ufficiale, però ovviamente non si può fare affidamento solo su questo, nel senso metterlo in panchina sempre per non far raggiungere le 40 presenze si parlava, e quindi per non rinnovare in automatico il contratto, non sarebbe un aspetto d'obbligo nella situazione attuale, perché Alexandro comunque riesce ad essere importante in questa difesa a tre, e tra i pochi difensori laterali della Juventus, ancora presenti e disponibili ovviamente, quindi se c'è bisogno di Alexandro perché garantisce determinate cose, la Juve lo deve far giocare, se invece ci sono altri calciatori che riescono a garantire un maggior rapporto rispetto a quello che dà Alexandro in tutte le fasi di gioco, fase difensiva, fase offensiva, le transizioni e così via, allora sicuramente la Juventus potrà farne a meno, ad ora Alexandro però è risultato molto importante nella difesa a tre, vedremo come si evolverà la situazione, però per quanto riguarda anche il mercato, se vuoi venderlo eventualmente, bisognerà comunque trovare un difensore adatto, e ovviamente forte a costi contenuti eventualmente, a meno che non si tratti appunto di un titolare da prendere a tutti i costi, qui diciamo che siamo a gennaio, bisognerà capire quale sarà la Juventus del futuro, se si terrà la difesa a tre o la difesa a quattro, quindi si potrà fare qualche calcolo in più, ad ora comunque Alexandro è importante per questa fase difensiva della Juventus e non solo, quindi vedremo più in là cosa potrà succedere. Cosa pensi appunto di questa trasformazione di Alexandro? Gli rinnoveresti il contratto? Iscriviti al canale per avere tantissime altre analisi e ciao a tutti da Mondo Calcistico! Grazie a tutti!